Saranno nostri compagni di viaggio fino a 15 giorni prima delle elezioni regionali del 31 maggio. Poi i sondaggi diventeranno top secret. Il primo sondaggio sul voto in Toscana è del sito scenariipolitici.com. Emergono alcuni spunti interessanti. In primo luogo l'astenzionismo al 44%, dato shock in linea con quanto accaduto in Emilia-Romagna lo scorso anno. Ben 15 punti in meno rispetto ai votanti delle regionali del 2010, che furono il 61%. In secondo luogo sarebbe ben lontana l'iposite del ballottaggio che la nuova legge elettorale toscana prevede solo se nessun candidato supera il 40%. Enrico Rossi, secondo il sondaggio di scenariipolitici.com, veleggia intorno al 49%, circa 6 punti in meno rispetto al risultato del PD alle europee, ma comunque con un consenso vasto e che gli consentirebbe la riconferma al primo turno. Al secondo posto Giacomo Giannarelli del Movimento 5 Stelle al 15%, in linea con il voto alle europee dello scorso anno. Claudio Borghi per la Lega Nord con il 13%, supera di gran lunga il candidato ignoto, cioè quello che sarà di Forza Italia Nuovo Centrodestra, che secondo il sondaggio sarebbe fermo all'8%. Mentre Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, è al 4%, un punto in meno della soglia d'ingresso in Consiglio regionale, che è del 5%. L'ultimo dei candidati scesi in pista, Tommaso Fattori, è stimato dal sondaggio al 10% e sarebbe il doppio di quanto la lista Tsipras ottenne in Toscana alle ultime europee.